I bambini del Camaro Ecco qui tutti i ragazzi del Camaro Chiaramente tutte le categorie Il Camaro che il professore Capuzzi conosce abbastanza bene Ci dobbiamo semplicemente fare un piccolo spazio per i signori Capuzzi Per la signora circa un piacento di bambini Un po' più lonti così facciamo spazio Professore, prego La coppa federica Chi è il capitano? Chi è il capitano degli studietti? Che ce la fa? Forse devono essere due No, lui ce la fa, ce la fa Bello grosso Il segno è il professore Vincitore del decimo annoio Alcane Tracuzzi Il Camaro Allora Il trofeo lo progge Il trofeo lo progge a terra Così le foto le possiamo fare più tranquillamente Dobbiamo premiare il capo mangoniere Francesco Alorizzi Dov'è? Dov'è Francesco? La targa la consegna della signora Abbiamo scoperto che è suo alunno Sì Adesso Due paroline Il Camaro è quello di che ci concentriamo Allora Noi come società E da 10 anni che partituiamo A dare i Drabuzzi Prima come Luigi Messina Poi come Trinari Adesso come Camaro E voglio fare un ringraziamento Intanto a CSI Per l'ottima organizzazione E a questo bel torneo Alla famiglia Drabuzzi Che ogni anno Ci emoziona sempre di partecipare A questo torneo Sarà un'amicizia che ci lega il professore Non so Però ogni anno Sembra il primo anno Grazie a voi Va bene Dobbiamo consegnare anche la coppa Come terza classificata Cerchiamo Fai io Federica Dai La consegniamo a un ragazzo Un po' pulento Perché è bella pesante Ma lei è lui Siamo la lui Quindi come terza classificata Della categoria Sono dei sovietti E poi E poi E poi E poi C'è un omaggio Un po' reale Per la signora Drabuzzi Che facciamo ogni anno E anche quest'anno E giusto Che Giulia Regali Questi dei fiori Alla signora La professoressa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.